Basta burocrazia, pratiche più snelle, questo il messaggio che lancia l'amministrazione comunale di Pescara, assessore, nel giorno della presentazione di questo nuovo sportello telematico. Sì, l'obiettivo è questo, iniziato già con l'insediamento dell'amministrazione Masci, già da due anni e mezzo fa. La Covid ha dato uno spinto ulteriore a questa attività e oggi ovviamente presentiamo questo sportello telematico che è già attivo sulla città, oltre 400 sono state già le pratiche istruite e l'obiettivo è rendere comoda la vita ai cittadini di Pescara in modo da abbassare quelle che sono le attese, diciamo in qualche modo le perdite di tempo e ridurre al minimo l'affluenza presso le sportelle. Questo va in un'ottica sicuramente di renderla comoda la vita ma anche per rendere diciamo meno o più efficiente l'utilizzazione delle risorse umane interne che in questo modo saranno alleviate ovviamente dal fatto di ricevere pratiche e di istruirle nel modo tradizionale. Questo vuole in qualche modo rendere la possibilità a tutti di presentare dalla pratica edilizia alla pratica di cambio di residenza attraverso questo sportello, attraverso un'identificazione univoca e quello dello speed, cioè il riconoscimento digitale, dell'identità digitale che sta prendendo piede e ha preso piede nella nostra nazione sostanzialmente. Grazie. Grazie.